Stiamo discutendo in giunta del piano urbano del traffico. Presto avremo aggiornamenti, lo ha annunciato Francesco Chiarelli, assessore delegato alle infrastrutture al comune di Lauria. Diverse le questioni nell'agenda dell'assessore e del suo esecutivo, anche il PUT, documento che rientra però fa sapere in un discorso più ampio di gestione dei parcheggi ed altre misure. Proprio a riguardo e di recente il Partito Democratico Locale ha consegnato a lente una relazione programmatica degli Open PD Lauria, iniziative incentrate sulla possibilità di definire lo strumento per migliorare la circolazione stradale nell'area urbana dei peroni e dei mezzi. Sappiamo che la nostra iniziativa non sarà quella definitiva, dice Mimino Ricciardi dal PD, in quanto la giunta è autonoma, ma siamo partito di maggioranza e pertanto doveroso apportare un contributo all'azione amministrativa. Dal comune infatti sono chiari, esiste già una proposta fatta dal tecnico incaricato, quella del PD sarà avvagliata al pari di altre proposte che stanno arrivando da commercianti e utenti. Esigenza primaria per tutti, riorganizzare il traffico cittadino. Di questo se ne è parlato anche nel rapporto conoscitivo del 2012. Oggi invece, proposte dai cittadini, ipotesi del PD, il lavoro dei tecnici. Da un'approfondita analisi del territorio, fanno sapere dal partito, emergono alcune indicazioni, come la volontà di spostare l'impianto semaforico di piazza San Giacomo e portarlo sotto la madonnina e anche la maggior visibilità richiesta dai commercianti dell'associazione territoriale. Tante altre le proposte risolutive individuate per risolvere le criticità e nel centro urbano e nei due rioni. A tutto c'è rimedio, con azioni e misure di intervento o nel breve periodo, con obblighi di svolta, semafori e sensi unici o nei casi più complessi, con la realizzazione di uno studio di fattibilità per le soluzioni migliorative.